Siamo a Pordenone in via Roggiuzzole, in questo parcheggio anche oggi nuovo tentativo di furto con scasso alle auto parcheggiate, tre finestrini rotti e non è la prima volta che succede perché nei giorni scorsi la stessa cosa è accaduta al Parc Verdi e al Parc di Via Candiani. Addio all'isola felice, Pordenone si scopre ogni giorno meno sicura. I cittadini sono preoccupati per i sempre più numerosi tentativi di furto ai danni delle auto nei parcheggi della città. L'episodio più grave è accaduto al Parc Verdi di Piazza 20 Settembre, dove un angolano è stato arrestato per la seconda volta in pochi giorni per lo stesso reato e ora è in stato di libertà dopo la denuncia per furto aggravato e minacce nei confronti del proprietario dell'auto che l'aveva sorpreso. La gente chiede più controlli, le forze dell'ordine devono fare i conti con organici all'osso che non possono garantire una presenza costante sul territorio. Il tutto dopo che sabato sera una mega rissa con inseguimento nei tavolini dei bar e dei locali ha portato allo scompiglio. Guardando fuori nella nostra terrazza esterna abbiamo visto un ragazzo di colore inseguito da altri due o tre elementi che per fuggire da loro è saltato su un tavolo rompendolo. Mentre poi continuava a scappare uno degli inseguitori ha preso uno degli altri nostri tavoli della terrazza e glielo ha scagliato contro. Dopodiché si sono spostati in Piazza Cavour tra i tavoli dell'istorante La Catina dove hanno continuato a correre sui tavoli, lanciarsi i bicchieri e creare un bello scompiglio tra le persone. Molti bambini impauriti, principalmente i bambini. Nel frattempo alcuni dei clienti della catina sono intervenuti cercando di dividerli mentre chiamavamo le forze dell'ordine e poi si sono dileguati in pochi istanti.